Allerta meteo gialla per temporali in tutta la campagna. La protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica per l'impatto al suolo delle precipitazioni previste. L'allerta è in vigore dalle 12 di oggi e per le successive 24 ore. In particolare il quadro meteo evidenzia precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale puntualmente di moderata intensità. I venti ispireranno localmente forti dai quadranti occidentali con possibili raffiche. Il mare si presenterà localmente agitato. L'allerta è di colore giallo per la Piana Campana, incluso il Casertano, Napoli, Isole, Area Vesuviana, per l'Alto Volturno e Matese, per la Penisola Sorrentino Amalfitana, per i Monti di Sarno e i Monti Picentini, per il Tusciano e l'Alto Sele, per la Piana del Sele, l'Alto e Basso Cilento. Tra i principali rischi idrogeologici possibili, la protezione civile regionale segnala ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minore. Per questi motivi, la protezione civile della regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, nonché a mitigarne i rischi.